Nelle baraccopoli di Nairobi, un milione di bambini vive nella povertà e non ha un futuro. Con il nostro programma From Slum to Job, i bambini ricevono un'istruzione completa per 15 anni e competenze professionali e moderne, con un percorso che li porta dall'asilo fino al lavoro. Dona 2 euro ad Alice for Children al numero 45 586. Aiuti 4.000 bambini. Grazie a tutti.